Ciao, io sono Claudia Durastanti e passerò probabilmente alla storia come la scrittrice più solitaria di Santa Maddalena. Sono qui al mio secondo soggiorno anomalo e per una ragione o per l'altra mi sono trovata in circostanze di falsa solitudine, a dire il vero, perché poi questa è una casa che insomma nella sua destrutturazione, nelle sue regole particolari, resta una casa e quello che ho fatto soprattutto questa volta è stato colonizzare le varie stanze, ho avuto una grande libertà di movimento e tutti gli studi della torre hanno una loro atmosfera ben specifica a cui seguo un diverso tipo di scrittura secondo me e quindi non solo ho cambiato ambienti nel corso della giornata ma ho proprio visto le conseguenze degli ambienti su quello che potevo fare. Io come scrittrice ho una natura un po' bizzarra perché sono sia scrittrice che traduttrice, mi muovo fra due lingue che sono l'italiano e l'inglese. Non a caso ho rubato Nabokov da tutte le stanze che è un dispatriato come me e l'ho fatto anche l'altra volta quando lavoravo soprattutto nello studio di Grisha e quindi magari mi sono dedicata a fiction la mattina, non fiction in un'altra stanza, a traduzioni in un altro ambiente ancora e quindi è stata una solitudine molto poco solitaria perché è come se le varie donne o le varie scritture che contengo avessero avuto una grandissima libertà di movimento e questo è successo in un momento storico abbastanza particolare. Io e Beatrice siamo rientrate da New York con un viaggio che avremmo voluto forse più epico, rocambolesco di quello che è stato, avevamo un immaginario da sbarco in Normandia in un certo senso invece è stato un viaggio molto ordinato e quasi fin troppo elegante e però credo che noi lo racconteremo sempre in maniera diversa quindi queste mie tre settimane qui sono state anche un modo per lavorare di immaginazione, di sovrascrittura della realtà che poi è quello che faccio sempre e quindi ho accumulato una serie di aneddoti che sicuramente cambieranno significato nel corso del tempo e devo dire che quando ho ricevuto l'invito uno non me l'aspettavo perché pur essendo appunto mezza italiana e mezza americana scrivo in italiano, pubblicato sempre in Italia e pensavo di non finire proprio nel radar degli autori invitati a Santa Maddalena e avevo un po' di esitazione per la mitologia di questo posto in genere io ho un rapporto abbastanza cauto con il mito perché o entri a farne parte oppure rischi di avere una profonda soggezione e in definitiva non riuscire mai a riscaldare la temperatura al punto sufficiente che quel mito ti diventi davvero interessante e invece sono arrivata qui ho scoperto che c'era una grandissima anarchia di fondo e quindi questo è probabilmente ciò che mi attira di questo posto o per cui sono riuscita a sviluppare un rapporto sia affettivo che creativo con Santa Maddalena perché ho visto subito la profonda sovversione che soggiace a questo immaginario abbastanza bucolico e idilliaco o quindi questa è comunque la storia di questo posto per me.